L'aggiornamento sul contagio di coronavirus in Lombardia registra a fronte di 114.326 tamponi effettuati 840 nuovi positivi pari allo 0,7%. Calano di un paziente i malati in trepia intensiva, oggi sono 48 in totale. Aumentano di 6 invece i ricoverati in reparto dove si trovano 336 persone, 7 i decessi segnalati nelle ultime 24 ore, 34.194 le vittime del virus in regione dall'inizio della pandemia. I nuovi casi divisi per provincia a Milano sono 293 di cui 124 in città, 50 a Bergamo, 77 a Brescia, 45 a Como, 24 a Cremona, 17 a Lecco, 20 a Lodi, 52 a Mantua, 105 a Monzebrianza, 46 a Pavia, 14 a Sondrio ed infine 49 a Varese.